Sono Zibaldo, l'unica app completa di tanti servizi di pagamento. Scaricami, sono gratis. Zibaldo, come me non c'è nessuno. Alcuni sono emozionati, altri sono spaventati. Quasi tutti comunque non vedono l'ora di sottoporsi alla vaccinazione e di effettuare questo loro impegno. Queste immagini parlano da sole ed esprimono le diverse emozioni degli anziani nelle sottoporsi alla vaccinazione. Ero pronto, poi è una cosa che si deve fare, perciò è una questione di salute e di buon senso. Io non so l'altesa di giudicare il vaccino, allora quello che mi fanno, spero bene. Mi rimento a quello che dice i medici, tanto noi altri sulla scelta del vaccino non possiamo assolutamente sapere qual è meglio. I volti, ma soprattutto i sorrisi degli anziani dopo il loro impegno sono la più grande soddisfazione per gli organizzatori sanitari. E si avverte grande tenerezza quando ho effettuato il vaccino, si sentono sollevati. No, no, la prima l'ho già fatta e adesso penso che va bene anche questa. Ma a quelli che ho chiesto, ho detto che è andato tutto bene. Sono contenta, tanto questa è l'unica cosa che si può fare per stare meglio. Pensiamo tutti che è bene farlo, perché se non si fa è peggio, perché non c'è nient'altro che rimedia questo male. L'assistenza è davvero esemplare, la collaborazione dei rispettivi familiari è determinante. Ma i veri protagonisti restano sempre e comunque loro, gli anziani. Sono d'accordo, io quello che mi dice mio figlio faccio. Devo dire che tanto bisogna farlo per forza, perché se non fai il vaccino non vai da nessuna parte.